Se il cronoprogramma verrà rispettato, potrebbero partire già a gennaio i lavori di realizzazione del secondo fronte attrezzato della stazione di Barletta. Il finanziamento c'è, circa 2 milioni e mezzo di euro di fondi FESR della regione Puglia, manca solo l'approvazione del progetto esecutivo da parte di ferro tramviaria che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. L'intervento di riqualificazione interessa l'area che si affaccia in via Vittorio Veneto e prevede la creazione di una nuova stazione delle ferrovie del nord barese. L'intera zona sarà resa maggiormente sicura e meglio collegata con la realizzazione di rotatori e parcheggi e senza più i marciapiedi deformati dalle radici degli alberi e la scarsa illuminazione che di sera rende pericoloso il transito dei pedoni. Il volto soprattutto di via Vittorio Veneto sarà modernizzato e rifatto, oltre che razionalizzato da un punto di vista della viabilità. Oggi purtroppo quello è un problema serio per i cittadini, soprattutto penso ai tanti pendolari, agli studenti, ai lavoratori che devono attraversare quella strada non sicura, priva di luce, priva di marciapiedi. Invece, grazie a questi lavori, oltre a realizzare la nuova stazione, quindi con ampi spazi per le sale d'attesa, i nuovi bagni, saranno realizzati anche parcheggi per i mezzi di trasporto pubblico, sia urbano che estraurbano, la presenza di un'inversione di marcia per permettere di fare manovra a questi mezzi, parcheggi per mezzi privati su un'area a cura del comune e soprattutto anche mettere in sicurezza quell'area con l'abbattimento delle barriere architettoniche, un marciapiede che permetterà di camminare in sicurezza e aria verde importanti che miglioreranno la qualità ambientale di questo percorso, oltre a razionalizzare poi il traffico con una rotatoria che collegherà via Barbarisco. Saranno inoltre riammodernati i sottopassi ferroviari esistenti, rendendoli più accessibili e funzionali. Sarà prolungato il sottopasso che collega la nuova stazione ferroviaria, di ferrotranviaria con la stazione centrale, nuovi ascensori nella palazzina di RFI e soprattutto sarà modernato il sottopasso che collega Viale Marconi con Via Torino. Quindi sono importanti lavori di potenziamento, ma soprattutto per migliorare la sicurezza e anche da un punto di vista ambientale le condizioni di chi oggi deve frequentare quei luoghi.